Ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella, lasciare un mi piace e guardare il video fino alla fine, grazie. Il Covid torna a spaventare. I casi di positività diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9-15 novembre sono pari a 58 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente, quando era a quota 46 su 100.000. È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, ISS. L'incidenza sale e la preoccupazione per la variante Eris, che è la versione del Covid predominante in Italia, anche. Ora, a prescindere delle oscillazioni dell'incidenza dei casi Covid, la mortalità è comunque sempre rilevante. Così, all'Adon Cronos Salute Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIMIT, a margine dell'evento sull'antibiotico resistenza al Ministero della Salute, commentando i dati Covid del monitoraggio settimanale IS Ministero della Salute. Nel mese di ottobre abbiamo registrato 780 morti. Adesso siamo a 160-170 decessi a settimana. Questo è un dato certamente preoccupante, ma sono anche preoccupato per il fatto che l'unica arma che abbiamo, la prevenzione con il vaccino, non decolla. È un elemento di grande preoccupazione. Ma perché non è decollata la campagna vaccinale? Certamente non ci si vaccina anche perché c'è un po' di disorganizzazione, avverte Andreoni. Anche questo bisogna sottolinearlo. Quindi forse si aggrava ancora di più l'esitazione alla vaccinazione. Se è complicato fare il vaccino, diventa ancora più difficile, conclude, per chi non ha magari grandissima voglia di farlo. Grazie a tutti.